benvenuti a tutti nel video della big family ciao a tutti i big amici e benvenuti in un nostro nuovo video allora ragazzi come va? è tutto bene sono rimasta un po' delusa però per ieri che abbiamo fatto la live vi siete collegati in pochi uffa speravo di chiacchierare di più con voi vabbè alla prossima dai alla prossima live vi voglio di più a parte che era successo un po' di casino perché si abbiamo scelto l'orario sbagliato abbiamo scelto l'orario sbagliato la connessione poi si era staccato perché la connessione non è l'avamo andato a prendere Giulia e quindi vabbè dai alla prossima alla prossima vi voglio in tanti ragazzi mi raccomando grazie a tutti per 10.000 iscritti grazie a tutti per 10.000 iscritti che abbiamo superato e niente continuate a iscrivervi per chi non si è iscritti e soprattutto a condividere e a guardare i nostri video mi raccomando perché ragazzi se non guardate i nostri video e non vi iscrivete al canale poi siamo costretti a chiudere il nostro canale e voi volete che la big family chiuda il canale? nooo no dai allora con ciò mi raccomando continuate a guardare i nostri video non perdetevi neanche uno e continuate a iscrivervi per chi non si è iscritto allora quando le ciance ciance alla grande oggi facciamo il video dove vi portiamo in una nostra giornata natalizia ah si natale così un vlog un vlog diciamo allora siccome Giulia ne approfitto a fare video mi aveva chiesto se mamma giochiamo con la palla allora giochiamo con la palla mettiamo in corredorio e giochiamo con la palla ok dai va bene ce la lanciamo vediamo e poi vediamo di fare qualcos'altro guardate quanto manzate perché ragazzi se non guardate i nostri video e non vi iscrivete al canale poi siamo costretti a chiudere il nostro canale e voi volete che la big family chiuda il canale? nooo no dai allora con ciò mi raccomando continuate a guardare i nostri video non perdetevi neanche uno e continuate a iscrivervi per chi non si è iscritto allora quando le cianci alla grande oggi facciamo il video dove vi portiamo in una nostra giornata natalizia ah si natale così un vlog un nostro vlog diciamo allora siccome Giulia ne approfitto a fare video mi aveva chiesto se mamma giochiamo con la palla allora giochiamo con la palla mettiamo in corredorio e giochiamo con la palla ok dai va bene ce la lanciamo vediamo e poi vediamo di fare qualcos'altro guardate quanto manzate wow ma guardate quanto manzate Mamma non riesco più a tirare le mani fuori Dai smettila Mamma non riesco più a tirare le mani fuori Dai Serena Mamma Ma cos'è che stai facendo? Non ho capito Enzo Serena Cos'hai fatto? Mamma dai aiutami al posto di riprendermi Serena Ma smettila mi stai prendendo in giro Dai mamma Dai Serena Guarda Serena non scherzare Non scherzare Guarda che se mi stai facendo uno scherzo Ma rabbia sul serio Vieni qui fammi vedere Serena non scherzare No dai Serena Cioè ma perché hai filato una mano lì? C'è un gioco E si ma per il gioco di Lorenza Adesso c'è anche la tua mano lì dentro E lo spazziamo Dai smettila Dai Io ti amo papà Non so come fare Serena Non ti amo papà Mamma non ti amare mamma Io non so come fare Serena Io ho paura di farti male Ti fa male eh Sì Mamma No no Non la fico dentro l'altra Mamma Dai Dai Serena Prova a tirare Tu prova a muovere la mano Ma fammi vedere Cioè fammi vedere Cioè ma c'è chi te ne dite incastrata Di Come faccio? Come faccio? Io adesso rischio magari di bloccarmela Non mettere la manina tua amore Serena dai come faccio? Dai Serena Prova a tirare Tu prova a muovere la mano Ma fammi vedere Cioè fammi vedere Cioè ma c'è chi te ne dite incastrata Di Come faccio? Come faccio? Io adesso rischio magari di bloccarmela Non mettere la manina tua amore Serena dai Come facciamo? Non so Ma non mi fai A tirare la storia Chi neanche? Sbattaci però Un po' su Dai io Sono riuscita Come trovare una soluzione Come potrei fare secondo te? Prova a mettere o la bagno No amore dai O la bagno o gli metto un po' di olio L'unica soluzione è che metti un po' di olio Si è incastrata amore Si è incastrata la manina Dai Luca Niente dai facciamo una cosa Mettiamo un pochino di olio Ok? Proviamo a mettere Ragazzi secondo voi funzionerà un po' di olio? Perché questo piedi ferro Magari con un po' di olio È stivola Niente Ho preso un po' di olio E un po' di carta Speriamo che funzioni Cosa dite? Funzionerà? Ragazzi vi prego Con i fatti così Fatti che magari Che ne so La vostra La vostra Si amore La vostra Il vostro pensiero Aiuti serena Magari Ragazzi Attivate la campanella Per non perdere La sua avventura E l'isavventura Come quella di oggi Ma non voglio stare qua Poi mi potranno staccare la mano Dovrò stare qua per sempre Certo che l'hai combinata grossa Potevi anche Metterti Cioè Prendere qualcosa Invece di infilare la mano Per tirare fuori quel gioco lì Ma poi ti ho infilato lì dentro Niente Proviamo a buttare un po' di olio E non posso buttare io? Me lo metterò un po' nella mano io qua Metterò a incastrare No no Infatti Quello che sto cercando di fare Che magari Vedi qua Facendo così In fondo Metto un po' in fondo Ok Venta mamma No no Cerco di non incastrarmelo Non potrevi Stare là dentro Non potrevi Camare la mamma? Infatti Non potrevi Camarmi la mamma? Che era cantato Con il detto di Loli Infatti Eh Lo potrei dire Invece di infilare la mano Lo potrei dire Invece di infilare la mano Vabbè Vabbè capito Ma dimmi la mamma Capito anche a te Eh Quando ti sei ronda l'occhio Allora Cerca di Che la cerco di far scivolare Serena Tira Dai Dai Cerca di Che ci vuoi fare qua Mamma Aia 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 Mamma Dai Dai che sto venendo fuori Sto venendo fuori Aia Aia Serena mamma mia Sembra che stia diventando tutto viola Però lo sai Dai Tira Dai Aia Tira Dai Che ci vuoi fare qua Aia Aia Mamma mia Ce l'hai tutto rosso Serena Guarda qua che segno Guarda qua di vita Aia No Piano Dai verla Aia 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Mamma mia È gonfia Sto diventando tutta gonfia Non mi piccare la mano Mi fa male Cioè Ma anche tu Ma che La prossima volta Evita la difesa Ma cioè Secondo me hai spinto un po' per fartela incastrare Bah Niente dai Vieni qua va Che adesso la disinfettiamo un po' Mettiamo Serena Niente Metti un po' di ghiaccio Ti sei andata a prendere un po' di ghiaccio Ti conviene tenere un po' di ghiaccio nella mano Io Io quanto Mettere io Aia 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 Ai perfetto, mamma devi tenere su, dai cerca di tenere su niente, dai cerca di tenere su niente ragazzi, noi vi salutiamo spero che questo video vi sia piaciuto spodiciato e mi raccomando soprattutto per dare un po' di conforto morale a Serena, perché si è incastrata la mano oltre, come si pone e anche te adesso vi verrà fuori un bel video è freddissimo è freddissimo, togliela no, cerca di tenere cerca di tenere, magari lo facciamo niente, iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto arrivate la canale se lascia la nostra avventura e dite avventura seguite Teresa, come posso per rimare? se mi piace ci sta, salita e poi non mi porta i regali e tienela su, tienela su e noi ci vediamo domani per un prossimo video della big ciao big amici ciao big amici tienela su mamma certo, fare più attenzione no ciao ragazzi gioia ciao 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 Grazie per la visione!